In questo video parliamo del testo argomentativo. Il testo argomentativo è un tipo di testo che ha un preciso scopo, cioè in un testo argomentativo un autore espone una tesi, cioè un'idea, e attraverso una serie di argomentazioni, di argomenti, cerca di convincere il destinatario della validità della sua idea, della validità della sua tesi. Quindi lo scopo del testo argomentativo è quello di convincere l'interlocutore e l'ascoltatore a proposito di una determinata questione, di spiegare una determinata problematica, una determinata idea, oppure di accusare o difendere qualcuno o qualcosa, di sostenere un'idea o un'opinione. L'importante, quindi l'obiettivo principale del testo argomentativo è quello di persuadere l'interlocutore. Ci sono diversi tipi di testi argomentativi. Abbiamo ad esempio gli articoli di giornale, sono spesso testi argomentativi, l'articolo di fondo è sempre un testo argomentativo. Le recensioni di libri, di film, i libri, i testi manuali, ma anche i saggi oppure le ringhe giudiziarie in tribunale. Come è strutturato un testo argomentativo? I testi argomentativi possono essere divisi in testi argomentativi più semplici e più articolati. Vediamo adesso un testo argomentativo semplice. Innanzitutto abbiamo la presentazione dell'argomento del problema, dell'argomentazione del problema di cui si va a parlare. Quindi abbiamo l'enunciazione della tesi dell'idea da sostenere. L'enunciazione della tesi viene esposta assieme a almeno due o tre argomenti a favore della tesi, cioè due o più idee che servono a convincere l'interlocutore, a persuadere l'interlocutore, della validità della tesi. Queste argomentazioni vanno corredate di dati concreti, di dati, di fatti, di citazioni fonte autorevoli, ma anche possono essere sostenute anche da ragionamenti. Dopo che l'autore ha esposto le sue argomentazioni, il testo argomentativo andrà verso la sua conclusione. Nella conclusione l'autore ribadisce la tesi, la sua idea, in modo chiaro, sintetico. Un testo argomentativo può essere più articolato e quindi presentare una struttura un po' più complessa. Ovviamente si parte sempre dalla presentazione dell'argomentazione del problema, quindi si enuncia la tesi, cioè l'idea da sostenere, si espongono almeno due argomenti a favore della tesi e a quel punto si espone, sempre corredati di dati e fatti, e a quel punto si espone l'antitesi. Qual è lo scopo dell'antitesi? È quello di dare l'altra versione dei fatti, è quello di dare, con lo scopo preciso, di smontare le argomentazioni dell'antitesi. Quindi, dopo che l'antitesi è stata esposta, vanno presentate le argomentazioni dell'antitesi, che vanno successivamente smantellate, che vanno confutate. È dalla confutazione delle argomentazioni dell'antitesi, si passa quindi alla conclusione del testo argomentativo, in cui ovviamente si riafferma la tesi che si vuole sostenere. Per dare forza e validità agli argomenti vanno utilizzati esempi, dati, fatti e fonti autorevoli. Ricordiamo che lo scopo della presentazione dell'antitesi è quello di dare ancora forza, attraverso la confutazione, agli argomenti a favore della tesi e quindi alla tesi. Un testo argomentativo deve avere delle caratteristiche linguistiche per la quale, ad esempio, è necessario che si faccia uso di connettivi, cioè di tutte quelle parole, di tutte quelle espressioni che hanno la funzione di legare tra di loro le varie parti del testo. Inoltre è necessario utilizzare termini specialistici, termini specifici, usare un lessico adeguato. Utilizzare i tempi verbali coniugati al presente o al passato prossimo, indicativo. Utilizzare un registro medio e utilizzare prevalentemente l'ipotassi rispetto alla paratassi. Grazie.